12 giugno, Slovenia, mentre qua in Italia si parla di mascherine, si parla di distanziamento sociale, si parla coronavirus, casini e cose, questa è la situazione che c'è qua, qua il virus sembra che non sia arrivato, nel senso che hanno avuto i casi, hanno avuto problemi, però diciamo che non l'hanno presa seriamente come noi, quindi le cose sono due, o siamo noi stupidi o sono loro stupidi, comunque qualcuno di due non se la conta giusta, e niente, comunque sono andato anche a comprarmi un paio di scarpe al centro commerciale ieri, tipo le gru, qua si chiama Tush, ma da noi si chiama le gru, comunque è un centro commerciale simile, e niente, senza mascherina, potevi provarti le cose, è come se non fosse successo niente, anche loro qua hanno avuto dei casi, però evidentemente da noi forse sarà più grave, bene, chi lo sa, boh, non credo, credo che ci siano abbastanza prendo per il culo la mia opinione, 18 giugno 2020, Slovenia, sono all'interno di un centro commerciale, vediamo quanti hanno la mascherina. Grazie a tutti. a poco però l'attenzione è che chi la vuole mettere se la mette, chi non vuole mettere se la perché reputa che non ce ne sia bisogno non se la mette, non sono obbligati a non poter mangiare perché si rifiutano di mettersi la mascherina. diciamo che chi ce l'ha è per il fatto che ha scelto di mettersela, quindi niente, sono abbastanza liberi di fare un po' quello che vogliono. come c'è ancora un giro per le corsie, tipo gli addetti ce l'hanno, qualcuno che qui sta ce l'ha, ragazzine non ce l'hanno, il signore che sta comprando il pane non ce l'ha. ricordo che siamo il 18 giugno 2020. eccoci, siamo tutti. eccoci, 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 eccoci. Grazie a tutti. E niente che dire ragazzi, la situazione è questa. Ciao. Anzi, prima di salutarvi, le cose sono due. O sono loro che non hanno capito un cazzo, o siamo noi che non abbiamo capito un cazzo. Qua, sono qua da più o meno 15 giorni, su 900 tamponi sono risultati soltanto 7 positivi ieri. Quindi sto virus se ne sta andando, loro l'hanno capito, quindi hanno tolto le restrizioni, infatti in spiaggia non è come da noi che devi avere il metro di distanza, devi mascherine, guanti e puttanate simili. In questo momento i guanti non ce li ho, non sono stati neanche proposti di metterli. Quindi, mascherina non ce l'ho, io di sicuro non mi... per adesso non l'ho messa, sto bene. E non so che dire ragazzi. Ciao. 19 giugno 2020, sono un locale in Slovenia e niente, questo qua è il distanziamento sociale che loro hanno, quindi io ripeto, in Italia che stiamo ancora pensando se mettere il plexiglass in giro, i tavoli un metro e cose. Questa qua è la situazione che c'è adesso in Slovenia. Fatevi voi conti. Grazie.